buongiorno a tutte ragazze sono la Mauri oggi sono qua per spiegarvi la linea Hydrate di Purology una linea nata per i capelli secchi e colorati è una linea particolare perché è una linea vegana ovvero contiene prodotti completamente naturali quindi molto delicato sui nostri capelli questo è lo shampoo ne va usato pochissimo ovviamente guardate ecco qua in quantità minima ovviamente va applicata in nostri punti della testa un goccio d'acqua massaggiamo e risciacquiamo il tutto questa linea contiene tè verde rosa e sandalo che ci aiuterà quindi a dare un colore molto più brillante perché aiuta a mantenere il colore e in più di rendere il capello meno lucido questa linea si compone di due prodotti eccola anche il conditioner lo possiamo anche questo una piccola quantità vedete applicarlo sulle nostre lunghezze e punte pettiniamo lo lasciamo in posa dei 3-4 minuti e lo risciacquiamo abbondantemente anche questo contiene come vi dicevo rosa tè verde sandalo in più hanno anche degli oli essenziali come il paciuli che andrà a dare una profumazione molto gradevole comunque al nostro capello questa linea come vi dicevo ci aiuterà a mantenere la brillantezza del colore quindi comunque ci aiuterà a farlo scaricare un pochino meno e terrà il nostro capello molto idratato e settoso grazie a tutte ciao grazie a tutti grazie a tutti